Guadagnare online in maniera prevedibile e costante non è scontato. Molti si concentrano sul guadagno online con i metoducci, i side hustle, come arrotondare lo stipendio, come fare quei 500, quei 1000 euro in più al mese, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il guadagno costante, prevedibile, avere un'azienda strutturata che ha dei sistemi che non ti permettono di guadagnare meno di un tot al mese, bla bla bla, ha delle entrate fisse con dei partner, eccetera, eccetera, tutto questo, le cose serie, non sono scontate, molti guadagnano online in maniera un po' diversa. I metoducci, come li chiamo io, possono portarti a fare 3k, 10k al mese tranquillamente, possono portarti a farlo per uno o due anni, ma il problema è che se tu li fai per uno o due anni, sei stupido, hai uno stile di vita già da 5-6 mila euro al mese, guadagni 10 mila euro, sei fottuto, non potrai accumulare abbastanza per permetterti di vivere per il resto della vita, al massimo fai i soldi per due anni, hai accumulato quello che ti può far fare il tuo stile di vita per un altro mezzo anno e quindi farai lo stile di vita che vuoi per due anni e mezzo, e poi finisce la pacchia, finisce tutto. Cosa è diversa se guadagni 10 mila al mese e vivi con 1000 euro al mese, ma a quel punto che guadagni a fare 10 mila euro al mese non avrebbe senso. Quindi capisci qual è il problema di avere il metoduccio, lo stai comprendendo, che il metoduccio vi dice ma a me che mi interessa, io voglio guadagnarli 10 mila euro al mese, ma non ti serve a nulla, conta solo il presente, il qui ed ora, quindi se fra due anni e mezzo, quando sarà per te presente il momento, tu non avrai i soldi per vivere, perché il tuo metoduccio non funziona più, e anche se prima facevi 10k al mese, il passato non conta più, non hai più niente. Capisci bene che quello che vuoi tu è la vita da milionario, che in realtà poi non è la vita da milionario, perché quello che molti pensano sia la vita dei milionari in realtà è la vita di quelli che guadagnano un po' di meno di milioni, quindi sì la vita, quella là del jet privato, Lamborghini eccetera eccetera, se tu vuoi quella vita, non puoi innanzitutto guadagnare 10 mila euro al mese, con i metoducci quello fai, devi riuscire a guadagnare 30-40 mila euro al mese in maniera costante e in maniera prevedibile per 5-10 anni, cioè il 99% del business non va oltre 5 anni, tu vuoi essere quell'1% che riesce ad andare oltre 10 anni e capisci che con un metoduccio quel dropshipping, l'Amazon Kindle Publishing, l'Amazon FBA non puoi, devi creare un'azienda che dia del valore reale ai tuoi clienti e che sia un'azienda affermata, un'azienda che abbia nel nome dal 2001, dal 1938, le melette, queste diciture tipo Coca-Cola, dal 1900, cioè capisci, vuoi avere un'azienda del genere, non ti coi devi avere Coca-Cola, non ti coi devi fatturare i miliardi l'anno, ma devi avere una struttura tale che ti possa permettere di fare soldi in maniera costante, in questo modo anche se smetti di guadagnare, il tuo business fallisce eccetera eccetera, però avrai imparato una skill fondamentale, che anzi varie skill fondamentali fondamentali che sono quelle che ti permettono di creare un business serio, concreto nel tempo e puoi usarle in futuro, poi sono vendibili, magari ti ritrovi per strada con le pezze al culo, ti fai assumere e ti fai pagare tanto perché hai imparato quella skill, oppure rinizi da capo e ricrei la tua azienda, ti riadatti al mercato, quindi quello che dovresti fare è concentrarti sulla creazione di un vero e proprio business online che dura così tanto tempo, fin quando non morirai, ok? o comunque accumulare così tanto negli anni in cui lo fai, che poi potrai vivere anche senza riuscire a farlo. E in questo video ti darò dei consigli fondamentali, ti dirò cosa devi imparare realmente per riuscire a fare ciò, ti dirò praticamente come riuscirci e puoi scoprire tutto questo solo se arrivi fino alla fine. Ma prima mi presento, sono Branf, aiuto imprenditori e aspiranti itali a guadagnare di più online in maniera concreta e prevedibile e se vuoi più video dove si dà importanza alle informazioni piuttosto che all'intrattenimento, allora vuoi iscrirti al canale e attivare le notifiche. Partiamo subito. Come fare ad arrivare a costruire un'azienda del genere, un'azienda profittevole nel tempo? Innanzitutto devi concentrarti sul processo e non devi avere la fretta di guadagnare subito. Tutti i metoducci che ti potrebbero far guadagnare subito, come ti ho spiegato, puoi farli 10.000 euro al mese. Non è così tanto complicato come magari pensi. O magari se è già un business lo sai che puoi farli. Cioè se mi stai ascoltando è un business che sia fisico, che sia online, eccetera, sai per certo che fare 10.000 euro al mese non è difficile. Ma se ti concentri sul fare profittare al massimo, sul raccogliere tutti i soldi che ci sono in tavola al momento, non dai tempo di accumularsi. Quindi più aspetti per fare il cosiddetto cash out e più potrai guadagnare nel tempo. A cosa mi riferisco? Non mi riferisco a fare l'exit, a creare la start up, queste cose su cui io veramente sono totalmente contrario. Per me dovresti profittare e marginare subito, prendere tutti i soldi e portarteli nel tuo conto personale o comunque nelle tue holding che hai, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando di strutture finanziarie qui adesso. Ma il punto è che dovresti marginare subito. Sì, è vero, ma non devi pensare al metoduccio. Per esempio, non devi preferire un guadagno di 10.000 euro al mese per due anni e poi stop, ma devi preferire un modello di business che magari ci vogliono due anni per costruirlo guadagnando zero, ma che poi per 10-15 anni ti possa far guadagnare 30-40-50.000 euro al mese. È solo un esempio, ok? Ma quello che ti voglio spiegare è che devi preferire un periodo dove non guadagni, eccetera, eccetera. Se questo periodo dove non guadagni ti possa portare a maggiori guadagni in futuro. Quindi solo in funzione del fatto che ti possa far guadagnare di più in futuro. E non sempre è così. Ci sono alcune opportunità che devi cogliere, che ti fanno da subito guadagnare 50.000 euro al mese e te lo possono far guadagnare in maniera costante e in quel caso devi coglierle. Ma preferisci il rimandare il guadagno se è per una giusta causa, per costruire le giuste fondamenta che ti possono permettere di avere un'azienda seria in futuro. Poi impara i fondamentali che ti possono servire anche quando fallirai. Perché può essere che fallirai e non puoi ritrovarti a zero e riniziare da capo come facevo io una volta. Perché io ho provato tutto, dropshipping, anche Amazon Kindle Publishing, tutti questi businessini, i metoducci del cazzo che non funzionano, non esistono. Se vuoi fare dropshipping in realtà dovresti fare un'attività di vendita, un e-commerce, dovresti creare un prodotto serio, un'offerta assurda, eccetera, eccetera. In realtà chi crea lo store multiprodotto è stupido, si dovrebbe creare un funnel, eccetera, eccetera. Ma qua non stiamo a fare un corso sul dropshipping, anche perché il dropshipping non esiste, è solo un metodo per spedire gli ordini, non è un metodo di business, però va bene. Quali sono i fondamentali quindi che devi imparare, che ti possono aiutare sempre in ogni modello di business, in ogni epoca, sia che torni indietro di 2000 anni, sia che vai avanti di 3000 anni, questi fondamentali sono il marketing, la manipolazione e la vendita. Ce ne sono altri, ma questi sono i principali. Devi imparare a far marketing, devi imparare come vendere, devi imparare come si crea un'offerta, come si fanno le strategie di prezzo, e devi imparare a manipolare la percezione delle persone. Ho fatto un video sulla manipolazione che è uscito la settimana scorsa, puoi andare tranquillamente a guardarlo, se pensi che la manipolazione sia una cosa negativa, sei nel torto, quindi per farla breve, impara questi fondamentali. Passiamo al prossimo consiglio, accumula denaro. Concentrati, te l'ho già accennato, devi concentrarti sul margine, e sui soldi che ti entrano personalmente in tasca, molti usano come parametro per calcolare, soprattutto in Italia, perché in America esistono alcuni imprenditori che usano come parametro quanto hai in tasca. No, in Italia si usa come parametro quanto vale la tua azienda, ma la tua azienda può valere pure un miliardo di euro, ma se tu fatturi 5 milioni l'anno, un milione l'anno, però io ho un'azienda che vale 20 milioni, però che fa 20 milioni l'anno invece di un miliardo l'anno, però ho margino 15 milioni, sono più ricco io, cioè ti rendi conto di questa cosa, devi capirla molto bene, stai attento a questa cosa, perché tu puoi costruire un'azienda che fattura un miliardo l'anno, ma quelli sono soldi aziendali, e l'azienda è una persona giuridica, tu sei una persona fisica, quindi quei soldi sono aziendali, devi pagarci le tasse, quando ti stacchi i dividendi devi pagare il 26%, eccetera, eccetera, se a te ti rimangono dopo che hai pagato i dipendenti e tutto, un milione, fatturi un miliardo, ti rimane un milione, esempio, e io fatturo 20 milioni, e mi rimangono 15 milioni, chi è più ricco? Sono più ricco io di 15 volte, ovviamente non, però, se questi 15 milioni li spendo tutti, e mi rimane mezzo milione, e invece tu magari di questo milione che hai guadagnato, spendi 800 mila, e spendi 200 mila, e ti rimangono 800 mila, quindi capisci che sono importanti due cose, al primo livello, se tu fatturi un miliardo, e guadagni un milione, e io fatturo 20 milioni, guadagno 15 milioni, di netto, sto parlando di netto, al primo livello sono più ricco io, perché tu hai guadagnato un milione, alla fine dell'anno, io 15 milioni, ma al secondo livello, potresti essere ricco più tu, che hai guadagnato un milione, perché semplicemente vivi con 200 mila, e metti da parte 800 mila, e io vivo con 14 milioni e mezzo, e metto da parte solo mezzo milione, alla fine della fiera, tu hai messo da parte 800 mila, io 500 mila, quindi chi si è arricchito di più? Tu, però c'è anche da dire, che quello che guadagna 15 milioni, ha uno stile di vita, 14 milioni e mezzo, praticamente fa la vita dei sogni, di qualsiasi persona al mondo, e quello che vive con 200 mila l'anno, sì, non fa una vita di merda, ma non arriverà mai allo stile di vita, di 14 milioni e mezzo l'anno, non so se stai capendo di quello di cui ti parlo, sarebbe uno stile di vita assurdo, nessuno, pochi del mondo ce l'hanno, quindi sì, devi concentrarti sul margine, ma anche sull'accumulare del denaro, una volta che è marginato, devi accumulare. Un'ultima cosa, come vuoi costruire le fondamenta del tuo business? Sappi che per costruirle, devi prima costruire le fondamenta di te stesso, ci sono delle fondamenta ancora prima, da costruire, le fondamenta su te stesso, sono le fondamenta sulla tua salute mentale, sono, è curare la tua salute mentale, migliorarla. Se vuoi guadagnare in maniera prevedibile, è costante, è concreta, devi in primis essere costante tu, devi avere il macro focus e il micro focus, te ne ho parlato già in altri video, anche nel video precedente, per averlo devi lavorare sulla tua salute mentale, se non sai come lavorare sulla tua salute mentale, praticamente lo dico in ogni mio video, quindi vattelo a guardare, il punto è che devi capire la cruciale, tutto quello che abbiamo detto nel video è inutile, se tu non capisci la cruciale importanza di lavorare sulla salute mentale. Ovviamente se sei arrivato fin qui, il video ti è stato di immenso aiuto, e lo può essere anche il video che sta prendendo a schermo in questo istante, quindi vallo a guardare, mi raccomando. è stato di immenso aiuto,